Non lo so che tipo di sintetico sia, sicuramente vogliamo vincere, passa tutto dalla prestazione che faremo. Per quanto riguarda Cesena dove è l'altro campo sintetico è stata una partita un po' anomala perché comunque abbiamo giocato in dieci per più di un tempo contro una squadra forte, uno scontro diretto e penso che comunque essere riusciti a portare a casa un punto sia stato importante quella partita. Sicuramente è un tipo di gioco un po' diverso perché la palla è la più veloce, gli appoggi, i rimbalzi del pallone sono diversi però visto che comunque abbiamo già affrontato squadre, abbiamo già giocato sul sintetico sicuramente dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. A volte tante squadre contro di noi, soprattutto in casa, giocano tutte dietro a linea della palla e comunque riuscire a non subire gol e comunque quando la sblocchi a non prenderlo è importante peccato perché sabato subito dopo che l'abbiamo sbloccata Gallano ha fatto con l'Euro-Gol le ultime due partite con Spezia e Bari l'abbiamo subito, adesso cercheremo di non prenderlo contro la Juve-Stabia perché è bello essere comunque la migliore difesa ed è importante dare stabilità a tutta la squadra. La Juve-Stabia comunque ha sempre fatto ottimi campionati, quest'anno purtroppo per loro sono partiti male e fanno fatica a riprendersi però andare là a Castellammare è sempre difficile comunque su un campo sintetico e sicuramente l'ambiente sarà caldo e quindi se sottovalutiamo questa partita partiamo già con le colpiade sbagliate e non dobbiamo farlo. Da sottovalutare non c'è nessuno ma neanche da avere paura perché comunque solo il rispetto di una squadra che nonostante comunque i punti in classifica è da rispettare e da approcciare con l'atteggiamento giusto. Abel per noi è un giocatore importante, fondamentale, speriamo che rientri, che comunque guarisca il prima possibile. Per quanto riguarda Di Balà comunque lui anche all'inizio dell'anno faceva bene, ha sempre fatto bene, si è sempre impegnato, purtroppo gli mancava questo gol e sono sicuro che da adesso in poi che si è sbloccato ne farà tanti altri e comunque ci sono giocatori in rosa importanti come Lafferty, come Belotti, lo stesso Troianello, Malele che possono dare una mano e far sentire meno l'assenza di Hernandez.